Abbiamo sprecato molto, dopo Pisa pensavamo di essere salvi, invece si è fatta dura perché i giocatori in campo non hanno dato quello che dovevano dare e dispiace in particolare in questi due derby che noi ci troviamo in modo particolare, siamo stati un pochettino traditi da loro perché ripeto, questo è un pubblico che non merita questa umilazione perché ripeto, anni e anni abbiamo sempre dimostrato il nostro valore e quindi volevamo almeno nei derby che loro sfruttassero sangue dal primo al novantesimo, questo non l'hanno fatto e mi dispiace non me nemmeno, però dobbiamo dimenticare in fretta queste brutte prestazioni della squadra e dobbiamo pensare a giovedì, giovedì a tutti i costi, a costo di buttarlo lo butta lui, il pallone dentro, ma dobbiamo cercare di vincere questa benedetta partita perché vogliamo salvare la categoria, è molto importante e quindi quell'appello che posso fare i tifosi, dimentichiamo in fretta questa sconfitta a Salerno, lo so, che brucia per tutti, brucia per me, per noi che non c'eravamo, però ripeto, l'umilazione è stata grande, lo so ragazzi, ma adesso pensiamo di salvare il salvabile e poi alla fine possiamo fare di tutto quello che vogliamo, li possiamo contestare, possiamo contestare società, giocatori, allenatore, presidente, a noi in questo momento interessa la salvezza e interessa la categoria. La tifoseria sta cercando di non creare alibi ai giocatori perché in questo momento se cominciamo prima noi avanti a contestare ci creiamo degli alibi, quindi stiamo cercando di fargli capire con le buone cosa bisogna fare, indubbiamente sì, io capisco che a volte ci vuole un pochettino il bastone per farlo capire, però noi già abbiamo passato tanti guai senza aver fatto niente, voi lo sapete, vedi il fatto Tony, non abbiamo fatto niente, otto diffidati, quindi ci stanno addosso che ci stanno sterminando dappertutto, abbiamo quasi una trentina di ragazzi tutti diffidati senza aver fatto niente, quindi figurati se facciamo qualcosa del genere perché lo vengono a sapere sempre e quindi siamo costretti, noi purtroppo stiamo con le mani legate in questo momento perché abbiamo veramente un sacco di diffidati e quindi noi stiamo fuori e quindi sono costretti quei pochi ragazzi che sono rimasti a darsi da fare, noi non possiamo agire più, non possiamo arrivare allo stadio, non possiamo avere un confronto con i giocatori perché Bruno lo può dire, passiamo ancora all'ulteriore dei guai, quindi rischiamo pesante e quindi siamo costretti insomma a vivere da lontano questa situazione. Onestamente a passare dei guai ragazzi giovani che poi non possono fare il concorso, quindi dobbiamo stare anche attenti su queste cose e siamo con le mani legate, però noi nello stesso momento sono altri ragazzi che si stanno facendo valere, stanno facendo il proprio dovere, io quello che vorrei chiedere ai giocatori insomma tirateci da fuori da questa situazione perché ripeto come ti ho detto prima è molto importante questa categoria per noi, per noi è la vita.